Tutta la ciccia, tutta la pelle d'oca, il build up, sta in sta roba finale no? E' i senza luce che prendono la loro decisione, il loro posto sul campo di battaglia, che semenano con tutto il sangue, tutti che semenano fortissimi, con tutte le frasi, con la musica, poi tu sali sopra, c'è sto Radan bellissimo che utilizza dei tutto, perché utilizza la roba dei mantorosso, utilizza giustamente la magia gravitazionale, utilizza la magia, quella del sangue, perché c'ha pure Mog, poi ci si mette sopra Michela, tutto sto build up, tutto sto crescendo, sto crescendo, sto crescendo, e poi tirarti un calcio nei coglioni, per carità, c'è anche da dire una cosa, tu che cosa potevi rispondere qua? Effettivamente in questo DLC, non tanto di parentesi da chiudere, perché di quelle ce ne stanno un'infinità, però nel setting che ti pone il DLC, puoi parlarmi più de Marika, e l'hanno fatto, potresti parlarmi un po' più la regina dell'occhietto. Se io dovessi pensare al DLC, è letteralmente armi, chicche, interessanti, piccoli puntini sulle i, un bel viaggettone all'interno della lore, no? Come abbiamo sempre detto, giganteschi quadri, bellissimi, fantastici, però giustamente non arrivi a un punto. Lo sai qual è il fatto, Paco? Ti dicono l'origine delle sciamane, ti fanno vedere gli altri, ok? Però sembra quasi che appunto il DLC sia più loro che De Michela, cioè se tu mi poni il punto iniziale del, noi stiamo andati all'altra parte, perché? Perché stiamo a inseguire Michela, cazza pippoli, birri, 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 io De Michela non so un cazzo. Se tu mi metti la telecamera spuntata su un argomento e non me lo ampli, manca ciccia al DLC. Cioè perché The Ring City è una figata assurda? Perché ti prende il concetto del ciclo, tutti quei cazza pippoli, quella roba, e te ci mette della ciccia, della lore, vichissima lì in mezzo. Cioè come quando tu vai nell'arena del principe dei demoni e del Firelink Shrine, tu fai... Che cazzo stai a dire? Qua invece è sembrato il fasse una passeggiata in mezzo a un'ambientazione scritta, bene, perché ti mettono i draghi e le chicche, la roba della cenre. Cioè ti danno degli argomenti, ma non vanno a fondo, non li approfondiscono, non li chiudono. Perché poi per carità non è che devi per forza chiuderlo, no? Però che non mi dai roba da mordere. Sono tanti piccoli antipastini, buoni, ma non mi dai roba da mordere soprattutto quando poi il piatto principale che dovrebbe essere Michela è molto il... Boh! Voi mi avete detto che tanto fuori dal DLC non ci sta neanche nessuna interazione, quindi io tecnicamente sono fatto a cassotti con Michela, indosso il suo diadema, c'ho runette, cazza pippoli, malegna non dice niente? C'è neanche la chicca del tu vai pre, rottura runa di Michela, ti attacca, post rottura magari non ti attacca perché così te confermano che Malenia era sciarmata in realtà? O che reagisce agli abili del fratello? Boh! Grande DLC, bello. Perché è figo, perché ha aggiunto armi, NPC, zone, boss, ok. Però alla fine non dico che non mordi niente perché è il termine sbagliato, io lo capisco, ma non mi c'entra il punto del discorso. Non sai niente di più, poca roba, comunque Michela sono due anni che ci si spippola sopra, sì, quando alla fine è letteralmente un bambino con i poteri divini che ha fatto bordelli. Perché ha fatto bordelli? Perché paradossalmente Kylid è colpa sua, eh. Perché se lui non aveva mai mannato Malenia a farsi i cazzi suoi, Malenia non aveva mai ultato e là era ancora tutto normale. C'è letteralmente un bambino con i poteri in culo che fa bordelli. C'è la fine era, se realmente il fratellastro di Radan che gli fa costantemente Tu diventi lord, io divento Dio, tu diventi lord, io divento Dio. Radan gli fa col cazzo, ma chi te sei in culo? Cresce a te potere solo per il pigliasselo, mentre stermina un'altra persona, tutto un'altra appennino di persone, cazza pippoli, e a fine se la piglia sempre in culo. Cioè, alla fine di tutto, Michela è un moccioso. È un moccioso che non si è piantato le mani in culo. E che a sto punto, madonna, avete fatto bene a voi loro morto. Boh, voglio fare un mondo più gentile. Spoiler, abbandona i sentimenti, il cuore, la gentilezza. Cioè, c'è una discrepanza tra gli argomenti. Ti vuoi il DLC dal suo suno? Sì, sì, ma esattolo. Ma per fare quelle chicche così, ma ci basta... A parte che ci basta un cazzo, perché io ripeto, tu mi hai fatto aspettare due anni per un DLC. Io capisco che l'open world è gna 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 gna, però tu mi hai fatto aspettare due anni. Malenia, che costantemente, I am the blade of Michela, che fra un po' veramente sta là a succhiaie. L'albero sacro non reagisce a io che gli uso magari davanti la runa, che c'ho il suo diadema. Semplicemente che sai com'è, la sua runa maggiore è esplosa. Non posso neanche parlare... Cioè, Malenia comunque quando tu l'affronti non è che stiamo a parlare di Gwyn che è diventato vuoto, che te carica. Malenia comunque è sana. No, ma Malenia ti attacca. All'opposto di runi, lei lascia liberi tutti nel bene e nel male. Michela si impone su tutti nel bene e nel male. Guarda, per quanto mi ha fatto girare il culo questo finale, entrambi li prenderei a scapocciate. Preferisco Marika. Preferisco Manika che è veramente pane pane e il vino al vino. Ma hai fatto uno sgaro? Te estermino tutta la nazione. Facile. Secco. Semplice. Pulito. In mezzo a tutti sti cazzapipoli. Io ho sentito urlare al Goti. Al miglior DLC di tutti i tempi. Io adesso non vorrei essere blasfemo. Sabaku non mi fulminare. Per favore. Non ho fatto niente. Te lo giuro. Guarda, l'ho seguito tutta la lore. Tutta 65 miliardi di ore di run. No. Posso dire tranquillamente? Possiamo dirlo? No. Bellissimo? Figo? Sì. Aggiunge un sacco di armi, potenziamenti, incantesimi, NPC, piccole idee di gameplay, amuleti. Ti permette di fare, di ampliare al loop plus ultra le due possibilità di gameplay? Assolutamente. Sotto quel punto di vista è una figata. È una figata perché ti completa tante build che puoi fare. Però per il resto sono gigantesche. Passeggiate all'interno della lore. Sono quadri bellissimi, pieni ovunque di oggettini di merda perlopiù, boss grossi tipo tre draghi, uccelli, i popotami e compagnia, fornaci. Appunto, camminate, passeggiate nella lore perché sono tutti i posti bellissimi perché incontri il posto da dove vengono le dita, incontri i metri che ti dà quelle due o tre chicche. Ti vai a infilare dove stavano i tizi del corno e sotto c'hai il lord della frenesia. Sono tutti assaggini, sono tutti il pucciare il dito in tante minestre molto buone. Ma poi nell'overall del DLC è un ottimo DLC ma non è il miglior DLC che sia mai uscito. Questo sicuramente, mi dispiace dirlo, ha magari non a livello di gameplay perché a livello di gameplay potrebbe anche esserlo. Il miglior DLC di From, però a livello di lore no. Un buonissimo DLC, fighissimo, bellissimo. Poi per carità, c'è anche da dire che probabilmente tutto sto gigantesco scalpore è stato anche fatto dal fatto che Elden Ring è stato quel gioco From che magari è esploso di più sul casual gamer. Può essere sicuramente. Quindi se prima c'erano mille persone a commentare, giudica qualcosa, adesso ce ne stanno 10.000, 100.000, un milione. Io costantemente sentivo gente urla, è godi qua, è godi là, è minchia la miglior creazione della vita. Guardate, se non fossi in ambito gameplay, build e cazza pippoli, Dark Souls 3, Ring and City, se lo magna. A livello di lore, ma anche di proprio ciccia. Io direi a queste persone che hanno detto, minchia, best DLC ever, andatevi a giocare a Dark Souls 3 con Ring and City. Andatevi a giocare a Bloodborne, se c'avete una PlayStation 5 perché su PlayStation 4 ottima azione è fatta col buon. Andatevi a giocare a Bloodborne con The Old Hunter, che per carità pure là non è che siamo a chissà che, però è un altro DLC secondo me con i miei coglioni, bellissimo. E poi ne riparliamo. A parte tutti i 1500 poi pure i cut content, di tutti i dialoghi di Rellana, di Mesmer, a sto punto di Radan e compagnia. Cioè secondo me se per il DLC avessero usato un level design più alla vecchio Souls sarebbe stato molto meglio. Perché, ripeto, quadri bellissimi, però Nick, come anche il fatto di farmi trovare ovunque oggettini di merda e io ho trovato anche persone che l'hanno difesa sta cosa. Perché non tutti ci entrano in endgame e quindi devono dargli le risorse. Sì certo, perché al player che non si sa in che modo riesce a sopravvivere qua in mezzo con le armi più 10 e tutti quei cazzapippoli, giustamente serve la titanite più 1, serve la titanite più 5, quando molte volte avevamo anche chiacchierato con delle persone, come loro potevano creare tutto un sistema molto figo perché tu invece di mettermi le pietruzze di merda mi creavi una sorta di triplice o di doppio livello dove tu c'avevi magari tutta una valuta unica di pietre per potenziare le armi e rendertele più fighe, la benedizione dell'albero d'ombra con i pezzetti miuppava la difesa e le resistenze, così tu c'avevi che potevi mettermi gli oggetti in giro che non erano titaniti di livello 1 di merda, inutili, sti sassi, sti pezzi di ferro inutili, così tu potevi potenziarti solo l'arma che ti fregava qualcosa e soprattutto anche i catalizzatori e le campane. Perché? Perché un'altra pecca del DLC è che la roba da incantatore non scala con i livelli di potenza. Quindi se tu vuoi fare una sorta di ibrido dex intelligenza dove usi lo stocco per fare anche gli incantesimi, fai una ciofeca te danni, non te conviene mai nella vita. Grazie.